Valorizzare nuovi itinerari di scoperta enoturistica sui due versanti delle Alpi Occidentali è l'ambizioso obiettivo del progetto della strada dei vigneti alpini che coinvolge amministrazioni pubbliche e agenzie torinesi, valdostane e savoiarde che hanno candidato il progetto al sostegno da parte dell'Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Alcotra 2014-2020. Il progetto è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede dell'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta a San Cristof. La città metropolitana era rappresentata dal consigliere metropolitano delegato allo sviluppo montano Dimitri De Vita. Grazie al progetto della strada dei vigneti alpini a Carema tornerà a nuova vita la Grand Masung, una casa forte tardo-medioevale risalente al 1404 che diventerà una tappa fondamentale per gli amanti della viticoltura e del territorio con una cantina per le degustazioni e un museo multimediale interattivo dedicato alla storia della vitivinicoltura di montagna canavesana. A Pomaretto, grazie al progetto europeo, sarà possibile recuperare alcuni ciabot presenti in un vigneto dimostrativo da cui proviene il Ramie Doc, una delle perle enologiche del Pinerolese. I ciabot diventeranno un punto di degustazione. Oggi ci troviamo in presenza di un programma europeo nell'ambito del quale questo progetto è un po' d'acqua nel mare che però permette alle nostre realtà di agire fortemente sulla cultura del vino, sulla viticoltura, questo chiaramente in ambito bipartisan e anche oltre alpe se consideriamo la partecipazione della Savoia. Deve esserci un collante che naturalmente il vino e la cultura del vino attorno al quale sono necessarie la storia che è legata intimamente alla sua produzione, la preparazione e quindi la formazione e necessariamente la capacità di fare marketing. Oggi l'Europa ci viene incontro con questo finanziamento che è importante, che permette una sorta di riscoperta di quella che è la loro attività, ma ovviamente il progetto finirà e perché si strutturi questa capacità di portare avanti la loro storia attraverso le strade del vino è necessario che ci sia un grosso sforzo delle comunità locali ma soprattutto degli imprenditori. Sì, tre linee che puntano alla valorizzazione e alla tutela di questo straordinario patrimonio alpino che è un patrimonio naturale, patrimonio costruito e patrimonio umano. Il patrimonio costruito ha bisogno di essere tutelato urbanisticamente, quindi ci sarà un documento di linee guida costruito con i comuni per difendere i territori evitati dalle pressioni urbanistiche, ci sarà un lavoro di riabilitazione e veramente ricostruzione di questa architettura alpina della viticoltura, i nostri pilung e tupiung di Carema per esempio e tutti i manufatti che tengono in piedi questo territorio e poi ci sarà un'azione che è quella dei valori comuni che avrà veramente la funzione di fare partecipare gli operatori turistici, i vitivinicoli e i cittadini, gli abitanti di questi territori intorno a valori che veramente uniscono queste collettività e sulle quali saranno coinvolti, formati ma in maniera molto interattiva perché questa secondo noi è veramente la base, la base è l'offerta e l'identità di un territorio che poi produce anche effetti turistici e poi l'analisi di marketing che è la parte poi diciamo importante per studiare i mercati emergenti del turismo enologico.